Tonifichiamo il nostro corpo! Ciao Core, in questo workout facciamo degli esercizi di tonificazione. È importante eseguire esercizi di tonificazione per aumentare la massa muscolare, accelerare il metabolismo e diminuire la massa grassa. Vediamo insieme gli esercizi che andiamo a fare. Push up to sumo jump squat, Curse the lunge to knee up right and left, and leg climbs. Imposta l'interval timer con 50 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 12 round. Il CFX di questo workout è 2 e buon allenamento! Ci mettiamo in posizione di plank, push up, salto, squat, squat jump. I principianti, push up sulle ginocchia, salto e squat. Se no, modifica ancora, non salto, quindi elimina il salto e faccia solo uno squat. forza, c'è un bel salto, dai, pochi secondi ancora, schiena dritta, domicato contro l'altro quando faccio il push up. L'ultimo, dai, secondo esercizio. Secondo esercizio. Affondo incrociato indietro, e un piccolo salto. Adesso viene al contratto, schiena dritta, giù bene. Se non ce la fai più, elimina il salto. respira, aiutati con le braccia per l'equilibrio. Bravissima. Dai che ci siamo quasi. Pochi secondi ancora. Forza. Con l'altra gamba. Anche qui, puoi eliminare il salto. forza che il ginocchio lo porti in alto. Respira sempre. Forza. So che bruciano le gambe su. pochi secondi. Dai che siamo, guarda, alla fine del primo round. Ultimo esercizio. Ci stagliamo. Porto un elamme in alto, la tocca nella punta del piede. fai cambiare gamba. Se non ce la fai a toccare la punta del piede, tocco il ginocchio, ma sali con le spalle. In questo modo. Galissima. espira. Respira. Impala. Dolcissimi guaddi. Lo vengono gli addominali. Ripetiamo da capo Un bel salto Ripeti questa sequenza per altre due volte Ti ricordo che gli esercizi a corpo libero non sono da sottovalutare se desideri dimagrire o tonificare Un buon allenamento strutturato e fatto con il giusto impegno ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi Né che non si dica, ovviamente imparando a mangiare Ora ti saluto e vi rimando ai prossimi video, ciao!